Lavoravamo per loro nella scorsa stagione estiva, le stesse persone, per lo stesso lavoro, per lo stesso stipendio, quest'anno hanno detto no grazie, perché ho un rendito di cittadinanza a cui aggiungo qualche cosa in nero, quindi cameriere quest'anno non lo faccio, nei campi quest'anno non ci vengo, l'autista quest'anno non lo faccio, sarebbe un enorme problema. Non so se è qualche caso sporadico, però me l'hanno detto ieri in Calabria, me l'hanno detto oggi in Sicilia, l'ho sentito da diversi imprenditori agricoli e del turismo ieri l'altro in Puglia, chiederemo di fare tutte le verifiche del caso, perché non vorrei che qualcuno pensasse a una repubblica portata sull'assistenza, se però non invitiamo chi produce a pagare meno tasse l'assistenza nell'arco di due tre anni, esaurisce il pozzo e buonanotte.